Un caso emblematico, una persona ricoverata per una patologia diversa dal Covid e che proprio in ospedale contrae la malattia. È una delle necessità di giustizia che potrebbero essere prese in carico dallo sportello Covid allestito a Pescara dall'Associazione Codici. L'Associazione di consumatori ed utenti Codici Abruzzo ha tra i propri obiettivi quello di tutela dei diritti del cittadino e tra questi c'è anche il diritto alla salute. Proprio per questo abbiamo voluto creare lo sportello Covid-19 che si occuperà di tutti i casi di mala sanità e di disfunzioni legate al mancato funzionamento delle strutture sanitarie. Lo sportello in particolare assisterà gratuitamente le persone che hanno avuto un danno da Covid, cioè che erano ricoverate per altre patologie ed hanno poi contratto il Covid durante il ricovero nelle strutture ospedaliere e nelle RSA. Quindi che vogliono ottenere un risarcimento dei danni, ma ci occuperemo anche dei danni collaterali, cioè quelli legati alla mancata assistenza sanitaria, al mancato ricovero, alle ritardate o mancate prestazioni. La pandemia ha evidenziato le carenze del nostro sistema sanitario perché da un lato ha evidenziato la competenza, la benegazione, la professionalità di medici, infermieri ed operatori sanitari, ma dall'altro ha anche messo in evidenza le carenze di questa struttura sanitaria dovute sia al mancato collegamento tra Stato e Regione e sia all'amiopia di un potere politico che ha trasformato luoghi di prevenzione e cura, quali ospedali, RSA ed ospedali, in luoghi di contagio. Quindi noi invitiamo tutti i cittadini che hanno avuto danni da Covid e che vogliono ottenere un risarcimento dei danni a rivolgersi al nostro sportello che si trova qui a Pescara, in via Carlo Alberto dalla chiesa numero 15, aperto tutti i giorni, da lunedì al venerdì, chiamando il numero 08-577-211. Ricordiamo inoltre che è sempre operativo lo sportello utente per tutti i casi di bollette pazze, di luce, gas, acqua, telefonia e che forniamo anche assistenza per quanto riguarda la prenotazione di vaccini, richieste di speed e tutto ciò che riguarda l'interazione con la pubblica amministrazione.